bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo vlog ho perso il conto sarà sicuramente il quarto comunque allora ragazzi io è da tanto che non faccio video per cui ho deciso di fare questo vlog di aggiornamento allora è di tanto che non faccio video anche perché ho avuto problemi con la connessione insomma sono stato impegnato pure con la scuola abbiamo avuto compiti in classe a seguire ogni settimana ogni settimana non ne parliamo ho perfino avuto il compito in classe di latino che è una lingua che io studio da poco inutile praticamente andatevi a vedere il video di più pazzo lo direi da del latino mi sembra dire lui cosa di che cosa si tratta e questa lingua di merda comunque lasciamo stare latino oggi diciamo che volevo andarvi a parlare non di un argomento preciso ma volevo un po mostrarvi parlarvi del mio futuro diciamo su youtube diciamo che ragazzi cioè io avevo intenzione anche di portarvi dei gameplay quindi la presentazione secondo me ve lo potete proprio scordare perché diciamo che ho detto in quel video che avrei fatto vlog però ragazzi una delle mie più grandi passioni è quella appunto di poter portarvi anche dei gameplay su dei videogiochi abbastanza famosi quindi non credo farò solo vlog ma anche gameplay e già ne sarete accorti perché ho portato quella mog su modern warfare 3 però al di là di questo volevo dirvi anche che a natale vorrei farmi un pc da gaming ora non sono sicuro se farmi un pc da gaming oppure non so un elegato che in capture oppure un'altra scheda di acquisizione video per registrare video da mia playstation e o registrare video da un computer di questi non so se ora lo vedete vabbè ne devo dire che mi risposto che se non c'è un po di cassino comunque comunque come questo cioè conto di cambiare solo alcuni pezzi in questo computer anche perché farmi un computer da gaming sarebbe un po' come si chiama no scherzo sarebbe un po' una un assegno da da mille da mille miliardi di euro quindi diciamo che per ora sono molto indeciso per cui scrivetevi sotto nei commenti cosa aia cosa volete che io faccia nel futuro sul mio canale se volete che registri dei video dalla playstation 3 ditemelo insomma nei commenti anche se volete che io registri video dai computer portata dai computer portata dai computer da un computer fisso insomma quindi ragazzi questo video diciamo che lo volevo fare anche abbastanza breve era giusto per scambiare due chiacchiere che voi con voi fatemi sapere come state se va tutto bene come va a scuola e niente ragazzi quindi niente per questo video è tutto spero che commenterete lasciate un mi piace e spero che anche iscrivetevi al canale e quindi niente io vi saluto bella ragazzi qui da frank musica 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 musica